adesso facciamo un piccolo video Alessandro? a un bel è qui? cosa? sono del costumista è volontaria o scelgo io o scelgo il gladiatore quindi fate voi con calma con calma a un bel è la media guerra è un bel è più duro è una viola è un po' di piazza ma se mi guardi così se mi guardi così se mi porti biscotti un ragazzo incontra una ragazza la notte poi non passa la notte se ne va un ragazzo incontra una ragazza le labbra su le labbra poi che succederà e il campino è giusto la notte Grazie a tutti. Grazie a tutti.